Amici bentornati sul canale 9.000 giri dell'approvazione autosportiva, oggi facciamo una puntata, mi è venuto due osservazioni, due riflessioni più che osservazioni, riguardo a quelli che sono i costi di gestione prospettici, futuri, di qualunque macchina elettrica, cioè uno indipendentemente dalla scelta della macchina elettrica, quello che tante volte uno sottovaluta sono dei costi di gestione a medio e lungo termine, indipendentemente dal costo di acquisto della macchina che ancora oggi è estremamente elevato, i costi di gestione ordinari più o meno si possono quantificare, quello che uno tante volte non valuta e lì mi è capitato di leggere un articolo di questa azienda americana, Carscoops, che ha fatto un'analisi partendo, sempre negli Stati Uniti ovviamente, partendo da un certo numero di clienti che avevano acquistato la BMW i3, che poi sarebbe questa roba qua. La BMW i3 è stata una delle prime vetture di grande produzione lanciate dalla BMW come vettura full elettrica, in Italia se ne vedono relativamente poche, negli Stati Uniti ce ne sono molte e molte di più, è una vettura che mi sembra sia stata messa in produzione nel 2013, ha avuto un ciclo di vita di 7-8 anni e poi è uscita di produzione, ne sono state vendute, mi sono documentato un attimino più o meno nei Stati Uniti, poco o meno di 50 mila unità, quindi 8 anni di vita, ovviamente dopo 8 anni in funzione della durata o in funzione dei chilometri, queste macchine qui poi o sono state vendute o comunque sono arrivate a un limite, tale per cui bisogna intervenire con sempre più frequenza nella manutenzione della famosa batteria, perché un conto, ripeto, è una manutenzione ordinaria e su quello probabilmente i costi di gestione sono anche inferiori, anzi sicuramente sono inferiori rispetto a una macchina termica, perché essendoci solo il motore elettrico, tutti quelli che sono i costi, tagliandi, oli, tutto quello che ne consegue, chiaramente non ci sono, la restante parte dei costi ovviamente uguale, dalle gomme, ammortizzatori, freni, carrozzeria, i costi sono uguali, c'è un risparmio sulla parte del motore, dove poi casca l'asino è nel momento in cui la macchina raggiunge un determinato limite, oltre il quale la batteria decade o si rompe, perché le batterie, nel caso di questa macchina è una batteria formata da 8 celle, mi sono documentato, non è che sono competente specifico per questo tipo di vettura, però mi sono documentato e questa batteria qua è formata appunto da 8 celle e ha una vita media di circa 10 anni, 8-10 anni, ecco perché tutti coloro che hanno questa macchina arrivano a un certo punto e tendono a disfarsene di questa macchina, quelli coloro i quali l'acquistano e non sono particolarmente, non si documentano bene, possono andare incontro veramente a dei problemi economici notevolissimi, non è come cambiare la batteria di una macchina termica o cambiare anche un componente più costoso, non dico il cambio automatico, però qui stiamo parlando di un componente che a sostituzione costa quasi 30 mila Euro, significa circa 28 mila Euro, quindi capite bene che è una macchina che inizialmente poteva avere un certo costo, uno la trova usata a un costo drammaticamente inferiore e se poi dopo deve per cambiare la batteria, spende 28 mila Euro per ripararla, quella macchina la prende e la butta via, non ha senso ripararla, quindi mi si è accesa un po' questo pensiero, una riflessione che facevo, per cui il fatto di avere e tutte le macchine, almeno con la tecnologia che c'è adesso, poi domani faranno la batteria che dura in eterno, diciamo così, a luce eterna e le cose cambieranno, per il momento la situazione è questa, tutte le macchine da 10 anni, da quando ho introdotto le macchine elettriche a oggi, hanno tutte più o meno un tipo di batteria similare e tutte quelle che sono state vendute avranno chiaramente un fine vita che più o meno inevitabilmente le porrà fuori dal mercato, non converrà neanche più ripararle, quindi la sostanza di questo discorso è benissimo la macchina elettrica, benissimo di vantaggio, tutto quello che volete, però teniamo anche conto di quello che è un aspetto che tanti non valutano, che a questo punto trasforma la vettura, così come è stata vissuta fino adesso, anche con tutti coloro che la vettura l'hanno interpretata come un oggetto da tenere il più possibile, da tenere nel corso degli anni, ognuno la interpreta nella maniera che ritiene più opportuna, ecco una macchina elettrica, questo tipo di valutazione personale viene completamente stravolta, diventa un elettrodomestico, diventa un oggetto come non so, una lavatrice, un forno a microonde, un condizionatore che ha un certo numero di anni di efficienza, dopodiché un televisore, dopodiché quando arriva a un certo punto in cui sono da fare delle riparazioni importanti, come spesso penso che ciascuno di voi sappia ben chiaramente, non conviene più ripararlo, conviene prenderlo, buttarlo al macero o nella discarica e comprare uno nuovo, ecco questo è un aspetto sul quale fare una riflessione, io sono amante delle autostoriche, nel momento in cui entro nell'ambito delle macchine elettriche questa mia passione viene completamente estinta, viene completamente cancellata, io onestamente non mi capacito ancora di questo genere di ragionamento, perché per me una bella macchina storica ha un senso, ha un vissuto, ha un'anima, chiamiamolo così, che mi appagano da un punto di vista personale e come me ci sono migliaia, decine di migliaia di persone che interpretano questo ragionamento in maniera assolutamente soggettiva e molto positiva, con le macchine elettriche tutti quelli che considerano appassionati di auto, soprattutto di autostoriche, dovranno completamente cambiare idea e ragionare su altri aspetti, per cui tutti coloro che hanno macchine e storico, tenetevele strette, perché saranno destinate sicuramente a aumentare come valore e quelli che i fortunati che la manterranno in piena efficienza continueranno ad avere un oggetto unico, anche se da un punto di vista di utilizzo sempre più limitato, ma comunque avranno un oggetto concreto sul quale le prossime generazioni non potranno certo avere lo stesso tipo di risposta. Io penso di avervi così, sono riflessioni puramente personali, aspetti i vostri commenti, come al solito vi risponderò per quello che sono le mie idee, il mio modo di pensare, per qualunque altro tipo di informazione sapete da trovarmi, per il momento è tutto, un saluto, alla prossima!